Hanno preso il via ieri mattina adottati i lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo la frana del 10 dicembre scorso, quando alcuni macigni sono venuti giù dal costone roccioso sopra la strada provinciale 12, occupando la carreggiata e costringendo molti residenti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni in via precauzionale. L'amministrazione comunale si è subito messa al lavoro per ripristinare la situazione il prima possibile. Dopo il sopralluogo dei rocciatori e dei tecnici comunali che hanno appurato la caduta di tre livelli di barriere paramassi, spazzate via da centinaia di tonnellate di detriti precipitati, sono dunque partiti i lavori con lo scopo di far rientrare il prima possibile i cittadini negli immobili evacuati e di riaprire il transito pedonale e veicolare nel tratto urbano della strada provinciale 12, seppur a senso unico alternato. L'intervento è stato avviato dopo che l'amministrazione comunale ha ricevuto un impegno di stanziamento di 200.000 euro da parte della Regione Campania, Genio Civile di Salerno, per la realizzazione degli urgenti lavori di ripristino delle condizioni di normalità antefrana. L'impresa incaricata sta lavorando alla rimozione dei massi caduti e alla pulizia propedeuticamente all'installazione di nuove barriere paramassi, anche se provvisorie. Se il tempo ci assiste, fa sapere il sindaco Elio Guadagno, tenendo conto delle festività natalizie e che l'impresa ha garantito di lavorare anche la domenica, dovremmo riaprire la strada in 5-6 giorni pur a senso unico alternato, ma l'obiettivo, conclude il primo cittadino, è quello di far rientrare presto i cittadini nelle loro abitazioni e di ristabilire il traffico sulla strada provinciale 12 che è stato interdetto.